Siamo con Barbara Montauti, una delle residenti del villaggio Siv, che sono state costrette questa notte ad evacuare per il grave incendio che è divampato verso l'una di notte e che ha coinvolto tutta quanta la collina di Colle Pizzuto. Barbara è qui con noi anche per denunciare lo stato di abbandono del villaggio Siv, un quartiere che di fatto potrebbe essere un fiore dell'occhiello tra San Salvo e Vasto, che di fatto potrebbe in qualche modo unire i due territori, ma che da quanto ci ha fatto vedere, dalle immagini che potete vedere, è letteralmente in abbandono. Tante giovani coppie in questo quartiere, anche con bambini. Noi siamo qui su un campo di calcetto, ciò che dovrebbe essere un campo di calcetto, ma che di fatto non è. Barbara, cosa avete dovuto patire questa notte? Guarda, questa notte è sicuramente una gran paura, anche perché sentivamo proprio il rumore delle fiamme altissime, proprio qui dietro, potete vedere completo abbandono, quindi serpaglie e quant'altro. Poi sono venuti i carabinieri, suonavano porta a porta per comunque farci uscire, hanno evacuato chi poteva, è sceso giù a San Salvo e quant'altro. Però è una situazione veramente pesante, anche perché è un completo abbandono che noi vediamo proprio negli anni. Io adesso, questo è il quarto anno che abitiamo qui, non è tantissimo, però abbiamo visto proprio la differenza dai primi anni. Qui dietro, ad esempio, c'era una stradina che collegava le altre palazzine, che sono a ridosso proprio del campo, che è andato a fuoco. Che è stata coperta proprio della vegetazione? Esatto, completamente coperta. Noi qui siamo veramente in abbandono. Questa notte dove avevate passato la notte? Noi personalmente, da mia suocera, abbiamo preso anche i cani, siamo andati via perché c'erano fiamme altissime, le vedevamo proprio noi dalla finestra qui dietro, anche con il vento a favore, quindi vedevamo proprio queste fiamme altissime. La paura è stata tanta e quindi abbiamo abbandonato casa con la speranza la mattina di ritrovarla, insomma, ecco, perché era veramente orribile. Qual è l'appello che volete rivolgere? Allora, noi, diciamo, quali cittadini bastesi, anche se siamo più a ridosso di San Salvo, ci sentiamo letteralmente abbandonati per le incurie, perché comunque la vegetazione cresce a dismisura e ce la curiamo un po' noi, anche dall'entrata del villaggio. Ed è un peccato perché è veramente un osi, potrebbe essere veramente un piccolo paradiso, solo che manca proprio, non vediamo proprio il comune di Vasto qui presente, malgrado anche le tante sollecitazioni che abbiamo fatto e quindi ci dispiace perché ci sentiamo cittadini di serie B. Questo. Grazie a tutti.